Beyoncé ha spiazzato tutti pubblicando il Visual Album sulla piattaforma iTunes, senza alcuna anticipazione, quasi a voler fare un regalo ai suoi fans. L'artista spiega così la sua scelta. Non volevo far uscire la mia musica nelle modalità che ho sempre seguito e allora ho pensato di far circolare il mio disco a sorpresa. Il nuovo album comprende 14 brani inediti e 17 video, è stato inciso in giro per il mondo nell'arco di un anno e mezzo e racconta di temi vicini alla vita della pop star come l'amore, la paura, la sensualità. Io vedo la musica, è molto più di ciò che sento. Quando qualcosa mi coinvolge emotivamente, visualizzo una serie di scene e immagini che sono legate a quel sentimento e a quell'emozione, rivela la cantante. E se lei vede la musica, i suoi fan sono sicuramente felici di poterla ascoltare.